Come vuole la mattina? Portare la bambina a scuola, fare la spesa e ho ancora tutta la casa da pulire. Ma ho Spic e Span che ti aiuta, perché con Spic e Span fare le pulizie è come farle in tri e ci vuole poco. Con Spic e Span è così facile pulire, perché al suo contatto lo sporco non resiste. Con Spic e Span è subito tutto pulito. E che buon profumo di vino. E ho il tempo di andare a prendere la bambina. Con Spic e Span, chi fa da sé fa per tre.